Sì, siamo? No, io fanno già la salto sincronizzato, appena partiamo salto sincronizzato Aspetta, facciamo così qua No, 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 fallo No! Aspetta, dammi un secondo secondo No, fallo! E non ti muovo? Fallo! Ma si sta prima, si schiacciamo tutti insieme, io con un telecomando Con un telecomando Non lo fa, hai visto? L'abbiamo fatto insieme e non lo fa Prendi l'ultimo, prendi l'ultimo, no, sei morto Sei un povero barbone, perché sei morto?